Per i comuni un nuovo sussidio da parte del governo. Nel decreto rilancio è stato previsto infatti un fondo di oltre 3 miliardi di euro a favore degli enti locali. Lo comunica Pasquale Maglione, deputato e portavoce del Movimento 5 Stelle. La riduzione delle entrate a causa dell'emergenza sanitaria e il conseguente blocco delle attività ha pesato molto sulle casse dei comuni, delle province e delle comunità montane. Il governo quindi ha ritenuto doveroso andare in soccorso di quelli che sono i presidi dello Stato sul territorio attraverso uno stanziamento di risorse eccezionali per evitare che il virus causi altre drammatiche ferite alle comunità. Alle somme già stanziate a fine maggio con un acconto si aggiungono quelle attuali per un totale di oltre 10 milioni di euro per la sola provincia di Benevento. Tale somma è stata ripartita tra comuni a cui vanno quasi 8 milioni di euro, le comunità montane circa 15 mila euro e l'ente provincia oltre 2 milioni. È un primo aiuto a chi conta di poter aggiungere ulteriori risorse nei prossimi mesi. Concretamente il governo sta sostenendo gli enti locali attraverso l'erogazione di moneta contante che deve essere utilizzata per evitare che vengono decurtati i servizi ai cittadini. Passo dopo passo si sta cercando di tornare alla normalità. Fondamentale anche il risultato ottenuto dal primo ministro Giuseppe Conte nella Trattativa Europea perché permetterà di avere ulteriori risorse, oltre 200 miliardi di euro, da investire per far ripartire l'Italia e il sannio. Via Libera, da parte della Commissione Agricoltura Regione Campania, il regolamento attuativo della legge a disposizioni per la lavorazione, la trasformazione e il confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale e per il sostegno e la promozione dell'agricoltura contadina, a firma dei consiglieri regionali Erasmo Mortarolo e Maria Ricchiuti. Il regolamento, spiega il vicepresidente della Commissione Agricoltura Erasmo Mortarolo, sarà ora sottoposta all'approvazione dei filieri del Consiglio regionale al fine di tutelare un'agricoltura che altrimenti rischia di scomparire sotto il peso della burocrazia. Un comparto che merita un'opportunità forte di tutela, promozione e rilancio. Ringrazio tutti i componenti del Presidente della Commissione Agricoltura, la Direzione Regionale e Politica Agricola e le organizzazioni di categoria per il loro sostegno. Il vicepresidente Mortarolo ricorda inoltre che nel corso della seduta la Commissione ha approvato una risoluzione indirizzata alla Giunta Regionale impegnandosi al reperimento di quante più risorse per finanziare quanti più progetti possibili, alla luce dell'elevato numero di istanze ammissibili, ma non finanziabili, con le risorse assegnate sia per la misura 4.1.1 che per il progetto integrato giovani. La Commissione, spiega Mortarolo, con la risoluzione ha deciso di puntare al reperimento di ulteriori risorse per finanziare altri progetti idonei, comunque valide ed importanti per migliorare la competitività dell'intero comparto agroalimentare regionale, sia della riprogrammazione delle risorse non utilizzate che dal trascinamento sul nuovo programma, nonché da altri programmi di spesa. Sollecitando altresì l'attenzione per uno sviluppo armonico dei territori, anche per gli investimenti avanzati dai comuni per le aree interne, ove sostissano overbooking meritevoli di attenzione, almeno in termini di trascinamento o di risorse reperite in altri programmi, con particolare riferimento alla misura 7 relativa ai borghi e alla tipologia di intervento 8.3.1 relativa alla riqualificazione dei valloni. Siamo molto preoccupati dell'aumento di contagi che si sta registrando in Campania. Ospichiamo che si portino avanti controlli severi sul rispetto delle norme anticontagio. È un messaggio chiaro quello che arriva dal coordinamento regionale degli ordini dei medici, chirurghi e degli odontoriati della campagna, con i presidenti e tutti gli ordini provinciali che chiedono una stretta dei controlli e l'applicazione di sanzioni nei casi in adempienza, guardando in modo particolare a tutti i luoghi di maggiore assembramento come esercizi commerciali, ristoranti e bar. Ormai si parla di ripartenza del flusso, non tanto per i numeri ma per la severità dei casi clinici. Mercoledì al Codugno di NAB sono approdati altri due pazienti, non solo positivi, ma in Covid conclamato. Giovedì ancora uno. Nel primo caso si tratta di una coppia di Giuliano, lui 45enne e quello che è verso in condizioni più gravi. All'accettazione presentava già gravi sintomi respiratori. I casi oggi sono più gravi come quelli di febbraio. Se non si cambia subito rotta, continuano i camici bianchi, le conseguenze sul sistema sanitario e sull'economia regionale potrebbero essere disastrose. I presidenti Giovanni D'Angelo, Ordine dei Medici di Salerno, Maria Elminia Bottiglieri, Ordine dei Medici di Caserta, Francesco Sellitto, Ordine dei Medici di Avellino, Giovanni Pietro Ianniello, Ordine dei Medici di Benevento e Silvestro Scotti, Ordine dei Medici di Napoli, parlano di una situazione che diviene più seria ogni giorno che passa, sulla quale non si può non intervenire con decisione. Grazie a tutti i nostri amici.